dieci giorni fa ho seminato il topinambolo gigante al mio orto ecco qui comincia a cacciare le radici vedete allora questo qua dovrebbe fare 100 grammi questo è quello gigante poi me fa 80 90 grammi c'è anche quello che fa 250 grammi questo seminato e poi la raccolgo ad ottobre si vabbè io siccome ne ho molto dice vabbè la posso pure tagliare vediamo come guardate ecco qui questo contiene una ventina di lipidi amminoacidi diversi e un ingrocio fra carciofo e patata contiene molta inulina potassio ferro fosforo manganese e contiene più fosforo della patata dalla banata c'è più potassio della patata dalla banana mettiamo qui queste volte pure racconto faccio così guarda ci mette i piedi così quindi faccio così ci mette un po di terra sopra anche questo qua da pure questa con già cosa l'avevo scoperto